Siamo pronti per la partenza, direzione Marchison 4 stamattina, abbiamo ancora 90 km di pista speriamo non polverosa e rossa come ieri sera e poi abbiamo un bel tour, una bella navigazione vicino alle cascate dove si possono vedere i popotomi, i coccodrilli e altri animali magari anche i scimpanse, vedremo